Sono Primetta Bertolozzi, già dirigente dell'Istituto Convenzio Massalosa 1, anche capofiglia del Centro Territoriale per l'Inclusione della Bersiglia. Sono in pensione da settembre e l'esperienza di cui voglio parlarvi è la possibilità che abbiamo avuto con la scuola parentale di Bargettia di stipulare un accordo di rete come il Citi Bersiglia, quindi scuola collega per l'Inclusione, e questa scuola parentale per conoscere l'esperienza, per condividere con gli insegnanti metodologie e proprie pratiche didattiche e anche per l'accertamento di idoneità degli alunni della scuola parentale di Bargettia. Questo accordo prevede che ci siano scambi durante l'anno tra insegnanti della scuola parentale e della scuola pubblica, presa visione della documentazione delle attività e poi l'accertamento di idoneità che si fa direttamente nella scuola di Bargettia e anche se possibile con la presenza di insegnanti contestori perché questa è la museologia moralente che viene eseguita. È un accordo che è stato stimolato anche con la capacità dell'office scolastico provinciale pubblica e che insomma praticamente ci permette di stabilire una proficua collaborazione, un'apertura, una conoscenza di questa esperienza particolare e anche una contaminazione tra scuola pubblica e scuola parentale che può dare veramente adichine l'offerta probativa di entrambi i settori.